mi chiamo johnny wade non sono un biologo e nemmeno un geologo quest'oggi sveleremo i misteri di un materiale che tutti conoscono ma che in pochi conoscono scusa gli imballaggi sottili in alluminio per scoprire questo materiale siamo venuti in un posto dove ne viene consumato davvero tanto esatto in un'area picnic di solito quando facciamo un picnic ci portiamo da mangiare panini baccelli cinghiale in umido lasagne e tutte queste pietanze tendiamo a trasportarle con degli imballaggi in alluminio adesso andremo a disturbare delle persone venite babbo prima possiamo mangiare no perché volevi salvare il mondo no sì e allora salva il mondo e stai zitto ma io volevo salvare il mondo con l'armatura di un supereroe figliolo per essere un supereroe non importa avere chissà quale armatura o chissà quale superpotere basta riuscire a migliorare il pianeta in cui viviamo esattamente quello che stiamo facendo adesso davvero no è solo che non abbiamo i soldi per l'armatura andiamo riprendi siamo in compagnia di dino dino cosa ti sei portato per il tuo picnic allora un po d'acqua poi tanto qualcosa nel bosco lo trovo non ti sei portato niente è l'acqua ma dillo prima no scusi lei io me sì lei venga qua un attimo non sono di qui scusi vedo che ha molti imballaggi sottili in alluminio ha molti imballaggi in alluminio vuoti perché c'è un limite no no ma sa come buttarli via in modo da permettere il riciclo li piglio e li buttano i secchi no prima li deve appallottolare sì ma staccarmo perché se butti il coperchio dello yogurt da solo si rischia che le macchine selezionatrici non lo rilevino e quindi verrebbe perso e io ne sapevo adesso dia il buon esempio e faccia vedere come si fa ora certo ora no ma me l'ha detto lei di appallottolare se le appallottola e basta c'è il rischio che rotolino sui nastri deve anche schiacciarli bravo le cose a farle bene o a farle male è lo stesso tempo fermo che ho fatto ora mi dia il tappo dello yogurt che devo fare dai lecca come ma io lecca non volevi mangiare mangia ma che schifo scusate ricordatevi di pulire sempre gli imballaggi in alluminio dai residui organici con un piccolo gesto faciliterete il riciclo ce l'abbiamo sì sì ce l'abbiamo perfetto abbiamo finito per oggi sì ma io ho fame bisognerebbe vedere di trovare qualche residuo organico perché non c'ho una lira ho capito ma io che scelgo fare con questo rosso lecca grazie a tutti